Buongiorno, ben trovati con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. I fatti più importanti di oggi, venerdì 16 luglio, sono legati essenzialmente ai danni del maltempo in Germania e in Belgio, la ritrovata armonia tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il Green Pass è l'aumento nuovamente dei contagi decretati dalla variante Delta, ma anche la nuova l'Italia e anche il sì, rifinanziamento alla missione in Libia con il sì della Camera dei Deputati. Allora, guardiamo insieme le prime pagine dei giornali italiani. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera, che apre con un decreto per il Green Pass. Scuola, tutti gli studenti in classe a settembre, ipotesi, lascia passare per i prof. Piano del governo, entro fine luglio, obbligo di doppia dose o tampone per discoteche e trasporti. A sostegno dell'apertura, le relazioni e le scelte. Inovax che non ti aspetti, impossibili da persuadere. L'articolo di Emanuele Trevi, che poi è anche il vincitore del premio strega 2021. Ovviamente il Green Pass è l'ipotesi del suo utilizzo anche negli stadi, stadi aperti e vaccinati. Ecco la spinta del calcio. È stato il presidente della Lega d'Alpino a chiedere che anche il Green Pass venga utilizzato per accedere agli stadi. Nuovi ricoverati, 9 su 10 sono coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale. L'editoriale, più severi per essere più liberi, di Monica Guertoni e Fiorenza Sarzanini. Quindi sull'importanza di vaccinarsi per tornare effettivamente alla libertà. Lo sappiamo da lunedì. Ci potrebbe essere una nuova stretta per alcune regioni che potrebbero tornare in fascia gialla, quindi con nuove e con le vecchie restrizioni che abbiamo cancellato da giugno. Di spalla, Conte, Grillo e Pace è fatta con la prova fotografica. I due sono stati visti e poi c'è stata la pubblicazione da parte di Beppe Grillo di un post su cui, oltre alla foto che vedete qui in prima piagina sul Corriere della Sera, fino al 2050, facendo capire che il Movimento 5 Stelle ritrova l'unità. Questa fotografia è stata scattata in un ristorante di Marina di Bibona dove il comico ha una villa. In realtà questo patto è stato definito il patto della spigola perché il pranzo si è basato appunto su pesce e ricorda il patto della crossata che fu siglato a Casaletta alla fine degli anni 90 tra Berlusconi e D'Alema. La fotonotizia e quindi il taglio centrale, il Corriere della Sera lo dedica agli alluvioni, paesi devastati, la Germania sotto shock, oltre 60 vittime e più di 1000 dispersi. La Merkel sconvolta ha parlato di catastrofe. Al fianco Italia, trasporti aereo, la nuova l'Italia, i primi decolli a metà ottobre. Andiamo a vedere Repubblica che dedica l'apertura alla strage del clima. Andata di maltempo, devasta Germania e Belgio. Almeno 67 morti e centinaia di dispersi per le alluvioni. Merkel sotto shock è una catastrofe. Gli esperti, eventi estremi causati dal riscaldamento globale. I commenti con il retroscena, quel patto tra Parigi e Roma sul Green Deal. Il Green Deal è il pacchetto che la Commissione europea ha approvato per combattere le emissioni inquinanti ponendo al 2035 l'anno per lo swap alla vendita di auto a diesel e benzina che però pare come piano non sia stato accettato. Comunque è mal digerito dai paesi dell'est Europa. Naturalmente la spalla è dedicata a Conte e Grillo, pace a tavola. Quindi il pranzo della riconciliazione sulla giustizia non molliamo. Ricordando quindi che l'ex premier Conte non è favorevole alla riforma firmata dal ministro Cartabia. preferirebbe mantenere quella del grillino Bonafede. Sotto però il Diamanti, il sociologo, evidenzia che è cresciuta la fiducia nel premier Draghi addirittura al 74%, penalizzato invece il Movimento 5 Stelle forse proprio per il mancato accordo tra Beppe Grillo e Conte che ha penalizzato il movimento. Sotto il virus, sì al pass ma non per bar e ristoranti. L'intervista al ministro per il Sud Mara Carfagna e poi Tokyo, la città riluttante agli Olimpiadi. Tra qualche giorno si apriranno le Olimpiadi che, ricordiamo, a causa del contagio da coronavirus saranno senza pubblico. La stampa apre con un'intervista al ministro Orlando perché ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un pacchetto di aiuti per alcune imprese, 13 settimane di cassa integrazione per l'ex ILVA di Taranto e sei mesi per l'Embraco. Però Orlando dice multe più severe alle multinazionali in fuga. Sui licenziamenti, difficile tornare indietro. Ci sono situazioni che non solo sono legate alla Whirlpool di Napoli ma anche alla GNK di Toscana. Ci sono problemi anche lì, licenziamenti e operai in rivolta. Il titolo di spalla laterale a sinistra, contagi in salita, mini quarantene per chi arriva dai paesi a rischio e sotto il quotidiano di Torino recupera la notizia di ieri relativa all'esito dei testi invalsi dove la gran parte dei maturandi ha una preparazione simile a chi frequenta la terza media e con Chiara Saraceno il disastro antropologico. Il risultato dei testi invalsi spazzano via ogni narrazione consolatoria sulla tenuta della scuola durante la pandemia. Taglio centrale dedicata all'alluvione record con i morti provocati in Germania dal maltempo. Adesso andiamo a vedere il quotidiano dei Vescovi a venire che apre con il sì della Camera al rifinanziamento della missione in Libia. Libia, infatti il sì sbagliato. La Camera conferma i fondi alla Guardia Costiera che tortura i migranti, scrive a venire Boldrini, una pagina che era da chiudere del Rio. Comunque un progresso. Dall'anno prossimo il coinvolgimento dell'Unione Europea, ma in realtà Migrantes dice schiacciati i diritti dei più deboli. Di lato il titolo con il reddito di cittadinanza serve una riforma a favore dei poveri. Taglio centrale dedicata alla crisi cubana con il regime che ora apre alla piazza con importazioni senza dazzi e aumenti agli statali. Risale il tasso di positività. Anche il quotidiano dei Vescovi recupera e anzi mette in prima pagina i dati relativi al contagio. I vaccini però fanno da scudo. Poi tre piccoli titoletti, alluvioni devastanti, 60 morti in Germania, la protesta tra le forze politiche sulle nomine RAI perché per la prima volta l'unico partito di opposizione in questo momento, Fratelli d'Italia, è stato lasciato fuori dal CDA. E poi lo scontro con Bruxelles di Ungheria e Polonia che hanno ricevuto, verso cui è stata aperta una procedura di infrazione per le ultime leggi varate contro gli LGBTQ in Ungheria e le zone franche da LGBTQ in Polonia. Andiamo avanti e passiamo al quotidiano economico. Il sole 24 ore che naturalmente apre sulla nuova Alitalia, parte più leggera trasportaereo nell'accordo con Bruxelles, 2800 assunti, il primo anno e 52 velivoli come flotta. Sempre in prima però di taglio laterale verso il Green Pass per eventi e stadi, forse anche per i trasporti perché appunto salgono i contagi. Estendere l'obbligo del Green Pass per l'accesso a treni e aerei è una delle ipotesi che secondo fonti di governo sarà valutata in occasione della cabina di regia che si riunirà nelle prossime ore. Taglio centrale, l'alto là della Consob, la Commissione Banche, sulla super piattaforma per le criptovalute che non può operare in Italia. E per quanto riguarda il riassetto del credito, Unicredit crea la divisione in Italia. Invece adesso andiamo a Roma con il messaggero che apre come il quotidiano di Confindustria su Alitalia. l'Italia cambia nome e riparte, via libera dall'Unione Europea, AITA, Italia Trasporti Aerei, che decolla a ottobre con 52 aeree. Poi il patto del vermentino lo definisce qui perché è il vino che ha innaffiato il pranzo tra Beppe Grillo in una trattoria di Bibona con Giuseppe Conte e anche qui scoppia la pace e comincia l'offensiva sulla giustizia. Foto notizia che è stata scelta dal messaggero simile a quella che abbiamo visto sul Corriere della Sera. Germania travolta dal fango, decine di morti, Merkel sconvolta. L'estate nera delle alluvioni, effetto del maltempo nella Germania o nell'ovest della Germania a ridosso del Reno. Anche il messaggero dedica un richiamo in prima ai contagi in vacanza, allarme, Farnesina, rischi all'estero. Le regioni si blindano, tamponi per chi rientra da oltre confine, Sardegna, ipotesi, test per i turisti. Poi i diciotteni alle urne, molti pregi, qualche neo e la possibilità anche per chi ha 18 anni di votare per i senatori. Era 25 anni, fino a qualche settimana fa. Il messaggero ovviamente non dimentica il calcio, rivelando quale sarà lo schema di gioco che sarà attuato dalla Roma di Murigno. Il 4-2-3-1, Mu, il diminutivo con cui viene chiamato l'allenatore portoghese, nasconde la squadra nel fortino di Trigoria. Dieci reti al debutto, Zagnolo, gol da capitano. Andiamo poi invece a Napoli, che apre con vacanze e boom di contagio. Ecco tutti i paesi di evitare, crescono i positivi di rientro dalle ferie. La Farnesina viaggia all'estero rischiosi. In Italia l'indice RT di trasmissibilità torna sopra l'1 ed è scontro sull'uso dei green pass su ristoranti, treni e bus. Al centro il cantiere di Spalletti, dedicata quindi allo sport e a Napoli. E poi il 118 a Napoli ha solo otto ambulanze con il rischio ovviamente di assistenza immediata per chi ha bisogno. Andiamo a Bari con la gazzetta del mezzogiorno. Puglia, fuoco incrociato, suddad e resa scolastica. Quindi sempre il commento relativo ai test invalsi, alla scarsa capacità di apprendimento, oltre alla dispersione scolastica dovuto all'utilizzo della didattica a distanza a causa della pandemia. Ma il titolo laterale è il caos studenti all'estero bloccati a Dubai. 300 sono italiani, molti pugliesi e lucani. Preoccupa l'impennata dei contagi e oggi si decide sui colori. Perché oggi è venerdì, c'è il consueto monitoraggio del Ministero con la conferenza stampa pomeridiana che darà ovviamente gli ultimi dati relativi all'andamento epidemiologico e le decisioni su eventuali cambi di colore per le regioni a partire da lunedì prossimo. Nel frattempo un focus sull'arrivo in Puglia di altre 841 mila dosi di vaccino. La Puglia è sempre ai primi posti tra le regioni che vaccinano di più e in cui almeno finora si registra una bassa percentuale di chi non ha aderito alla campagna di immunizzazione. Poi Conte Grillo alla fine scoppiò la pace. Ora pensiamo al 2050, quello che ha scritto il garante del movimento. E poi il DDL ZAM torna in aula a martedì, ma c'è l'ipotesi di rinvio. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano del Sud, il quotidiano diretto da Roberto Napolitano. Titola Il mosaico Italia si fa con tutti i pezzi. Il piano nazionale di ripartenza e resilienza è l'occasione meravigliosa per provare a ricostruire un'alleanza virtuosa tra centro e periferie. e monitorate da Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia e Finanze le opere del piano nazionale e l'Italia decollerà a ottobre e poi una norma ad hoc. Nel decreto legge Governance la quota Sud sui bandi sarà blindata. 82 miliardi certificati anche dall'Unione Europea. Cominciamo a guardare come i vari giornali hanno deciso di affrontare anche l'ipotesi Green Pass. Lo facciamo con il Corriere della Sera. L'obbligo Green Pass entro fine luglio, sì per treni e aerei, il nodo dei ristoranti. e fa riferimento con quelle che sono le regole anche all'estero. In Portogallo e in Grecia, in bar, hotel e ristoranti, possono accedere solo i vaccinati con pass oppure con certificato. In Francia dal 21 luglio il Green Pass sarà richiesto anche per cinema e musei. In Italia, invece, sarà un decreto a rendere obbligatorio il Green Pass per entrare in tutti i luoghi dove possono crearsi affollamenti. Oggi, dopo aver analizzato i dati, scrive il Corriere della Sera, del monitoraggio settimanale sull'andamento della curva epidemiologica, il Governo metterà a punto le linee del provvedimento che discute nella cabina di regia e che sarà convocata. Ma anche di prossimo, nel frattempo, anche la conferenza Stato-Regioni affronterà questo tipo di discorso perché è necessario capire se effettivamente possiamo tornare alla normalità e è anche un modo per coinvolgere chi è ancora restivo a sottoporsi a vaccinazione anti-Covid. Repubblica, invece, dedica la sua apertura alla catastrofe climatica. Il maltempo fa strage in Germania e Belgio. Due giorni di precipitazioni provocano alluvioni senza precedenti, almeno 67 morti, decine i dispersi a rischio. Una diga del Nord Reno-Vestfalia a Liegi. Il sindaco invita la popolazione a evacuare. E proprio questa ondata di maltempo così violenta è legata ai cambiamenti climatici. Per questo motivo c'è l'intervista ad Antonio Navarra che guida la Fondazione Centro Euro Mediterraneo ed è un climatologo. La prima domanda è appunto se eventi di questo tipo sono riconducibili alla emergenza climatica e lui afferma che è molto probabile, ma per essere scientificamente corretti, non possiamo parlare di certezza. Si tratta di fenomeni che hanno scale temporali completamente diverse ed è difficile spiegare un evento puntuale con un processo che invece si estende per secoli. L'altra domanda è se è un dato statistico consolidato e che frequenza e intensità dei fenomeni estremi stanno ammontando. Questo è fuori di dubbio. La certezza c'è. C'è una chiara correlazione tra l'aumento della concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera e la frequenza e l'intensità di alluvioni, ondate di calore e periodi di siccità. Nel caso specifico delle precipitazioni che stanno devastando appunto il Belgio e la Germania c'è appunto questo aspetto. La stampa invece, l'abbiamo detto, apre con l'intervista al ministro Orlando che definisce, fa riferimento al pacchetto che è stato approvato ieri in consiglio dei ministri con altre settimane di cassa integrazione per l'ex silva di Taranto, 13 settimane per l'embraco. Però il ministro Orlando dice, ora basta, delocalizzazioni, sanzioni alle multinazionali in fuga. Gli viene chiesto a che servono le misure sullo sblocco dei licenziamenti, dice, è difficile tornare indietro, ma bisognerà fare attenzione a quello che succede a ottobre e arrivarci pronti definendo nuovi ammortizzatori sociali anche per le piccole imprese. Sull'ex embraco siamo all'ultimo giro, basta polemiche e questo è il momento di fare. E afferma anche che proprio anche su quella che è la crisi che sta investendo la GKN in Toscana, le soluzioni rispetto a soggetti che hanno una dimensione sovranazionale, bisogna cercare delle soluzioni che non siano soltanto italiane ma anche a livello europeo. Non basta la dimensione nazionale, dice il titolare del lavoro. Da un lato è importante limitare con un salario minimo europeo il dumping salariale, quindi prezzi, insomma, salari più bassi, che alcuni paesi dell'Unione Europea applicano e dall'altro bisogna utilizzare questa ondata di finanziamenti che avremo con il recovery plan per responsabilizzare di più le imprese. Andiamo invece ad avvenire, avvenire che apriva, apre con, abbiamo detto, il sì al finanziamento delle ammissioni in Libia, per oggi fa un'inchiesta che è firmata da Viviana D'Aloiso, la prostituzione a portata di click, forum online, social network e vetrine virtuale, la strada dove si vendono corpi di donne adesso è la rete. L'allarme, l'associazione, la lancia, l'associazione Papa Giovanni, difficile individuare lo sfruttamento via web, tante le denunce di violenza. L'inchiesta, appunto, adolescenti trattate come merce, traffici che si spostano dai marciapiedi allo schermo di uno smartphone, maltrattamenti e violenze in aumento, mentre i clienti cambiano le strategie, le giovanissime riempiono le tasche di protettori, che nel frattempo però sono diventati anche manager, la vergogna delle recensioni online di ragazzine. Da Valona, nei Balcani, hanno ripreso ad arrivare in Italia centinaia di ragazze albanesi, spesso minorenni, e nessuno sa perché. Le rotte dalla Libia alla Turchia, e il focus da Madrid in Spagna, il mercato del sesso, sfugge alle misure della politica e si attende una legge per frenare il fenomeno, soprattutto perché il business ha cifre da capogiro, è il terzo al mondo dopo quello tailandese e portoricano, eppure la prostituzione è ancora in un limbo legale, in Spagna come in Italia, con i partiti divisi sulle risposte da dare. Andiamo invece al Sole 24 ore, l'abbiamo detto, l'apertura dedicata ad Alitalia, Addio dall'Europa, Ok Aita e Italia Trasporti Aerei, il decollo è fissato a metà ottobre, Trasporti Accordo Italia-Commissione Europea sulla discontinuità necessaria al rilancio della nuova compagnia, tra le condizioni un tetto sulla flotta, composta da 52 aerei, gli slot, 353 al giorno, tra Linate, Milano e Fiumicino, Roma, e gli addetti. Dopo lunghi negoziati, scrive il giornale di Confindustria, dopo lunghi negoziati bilaterali, la Commissione Europea ha dato questa settimana il via libera alla nascita di Ita, la compagnia aerea che prenderà il testimone da Alitalia. L'accordo tra Roma e Bruxelles, anticipato ieri mattina da Radio Corche, il Sole 24 ore, la radio degli industriali, è ricco di condizioni e conferma che l'esecutivo comunitario continuerà a seguire da vicino la vicenda. L'esecutivo, infatti, ha spiegato di aver preso un'osa della nascita di Ita, in cui è stato fondamentale l'uomo chiave, Alfredo Altavilla, il nuovo SEO, e quindi la portavoce Arianna Podestà ha spiegato che Bruxelles rimane in stretto contatto con le autorità italiane per garantire che il lancio di Ita, in quanto nuovo e valido attore del mercato, sia in linea con le norme europee. Di lato, però, abbiamo l'intervista al patron di Ryanair, Michael O'Leary, il SEO, vogliamo raddoppiare a 200 i voli da e per Ciampino. Ryanair non perde tempo, in Italia 40 Boeing in più e 60 milioni di passeggeri. ha guardato la finale degli europei di calcio, chiede il sole 24 ore, certo, ho tifato Irlanda, da irlandese non potevo fare diversamente, sappiamo che c'è sempre stato contrasto tra l'Inghilterra e l'Irlanda. E riferimento agli incontri con il governo italiano, LIA risponde, i nostri piani per l'Italia sono ambiziosi, ma il governo deve capire che per le compagnie aeree continuare a pagare la tassa municipale su ogni biglietto aereo è uno spreco di risorse che servono soltanto a pagare le pensioni ai dipendenti dell'Italia. Un po' polemico e critico nei confronti di quello che è stato fatto finora. Gazzetta del Mezzogiorno, dicevamo che apre con il caos studenti, l'odissea di 30 pugliesi reclusi in albergo a Dubai. Viaggio studio dell'Inps, in collaborazione con l'Accademia Britannica, racconta il papà di una studentessa barese che si chiama Claudia ed è anche positiva, doveva rientrare mercoledì, ma ha avvertito un po' di febbre, poi ha perso gusto e olfatto. Pranzi e cena l'italiana, i ragazzi in quarantena negli Emirati, dopo aver provato il catering di un fast food, ora sono serviti da un ristorante tricolore. E' riferimento anche dalla Basilicata, anche i miei figli positivi per fortuna stanno bene e parla la mamma, quindi l'intervista alla mamma, di due dei quattro lucani bloccati a Dubai. La Farnesina lancia l'allarme con i viaggi rischi sanitari e quindi i consigli del Ministero. Meglio fare una assicurazione, proprio per evitare che chi arrivi dall'estero possa poi portare il virus. Nel frattempo l'EMA frena sulla terza dose e pochi dati per introdurla nuovamente. Andiamo al messaggero che fa un focus sulle polizze auto. L'Anea, l'associazione delle agenzie di assicurazione, chiede di cambiare il bonus malus, che lo sappiamo è il sistema attraverso cui viene calcolato annualmente l'RC Auto. Crescono gli investimenti in infrastrutture da parte delle compagnie di assicurazione. Il meccanismo del bonus malus non funziona più, deve essere superato. L'industria delle assicurazioni è pronta a modificare uno dei settori più importanti e discussi. Lo ha spiegato la Presidente dell'Anea, Maria Bianca Farina, durante l'assemblea annuale che si è svolta ieri, evidenziando la necessità di una riforma del ramo che punti alla revisione di un sistema che ha perso efficacia. Due, le priorità dell'intervento, riduzione dei costi complessivi e annullamento dei divari territoriali ancora esistenti. Andiamo invece al mattino di Napoli, che dedica un pezzo alla percentuale di fondi inseriti nel piano nazionale di ripartenza e resilienza al Sud. Recovery e mezzogiorno. L'impegno di spesa del 40% sarà blindato da una norma. Il Ministro per il Sud, Carfagna, annuncia un emendamento al decreto legge sulla governance del PNRR. I fondi per il meridione saranno monitorati in caso di scostamento c'è la compensazione. Serviranno, per quel che è possibile, a colmare il gap tra Nord e Sud. Il problema c'è al punto che si sta trovando una soluzione, scrive il giornale di Napoli. Il tema è quello annoso degli impegni per il mezzogiorno. E poi a corredo anche un'indagine di Svimez, che naturalmente è l'associazione che si occupa dello sviluppo dell'industria del mezzogiorno, Atenei periferici deboli, al Sud meno risorse e docenti. Hanno ricevuto meno risorse, scrive Santonastaso, hanno potuto assumere meno. Docenti e ricercatori rischiano ora di essere sempre più marginali, nonostante il piano nazionale di ripartenza e resilienza. Sono appunto le università del Sud e questo è stato scritto nel documento finale degli esperti coordinati dal professor Gaetano Vecchione dell'Università Federico II di Napoli. Andiamo a vedere adesso il quotidiano del Sud. Il mosaico Italia si fa con tutti i pezzi. Si è perso negli anni il senso di confraternita di un paese, di uno spirito di coalizione dove tutti si sentono ruote di un unico meccanismo nazionale, di un sistema che si articola per regioni, ma è nazioni. Con questo spirito condiviso ricrea l'unità nazionale del paese perché acquisisce come valore fondante che la burocrazia pesca i suoi uomini migliori in tutta la nazione. Allora, con questo che è il titolo di apertura del quotidiano del Sud, finisce il nostro appuntamento con l'edicole, con la rassegna stampa. Vi auguro una buona giornata e vi lascio in compagnia dei programmi della rete.